Ciao a tutti ragazzi, io sono Lara, ho 25 anni, vengo da Siracusa, sono qui a Milano da un anno Sono studentessa alla magistrale di psicologia Il mio genere preferito è il soul, ma anche la R&B, Rhythm & Blues Tantissimo, la grandissima Mina, soprattutto le interpreti Ragazzi, io ho accettato la sfida, e voi? Accettate la sfida Ragazzi, io ho accettato la sfida, e voi? Accettate la sfida